Con me c'è Antonio Schetter che di derby, magari in terra campana, ne ha vissuti davvero tanti. Sì, sicuramente ne ho vissuti tanti. So anche il valore che vuol dire un derby pugliese da Martina e Foggia. Diciamo che si avvicinò molto ai derby nostri campani. L'umore della squadra è giusto perché comunque, al di là della sconfitta di Benevento, veniamo da una grossa prestazione dove meritavamo come minimo il pareggio. Abbiamo preparato una settimana giusta come la settimana scorsa. Non vediamo l'ora che arrivi questa partita perché comunque giocare contro il Foggia per qualsiasi giocatore è sempre una bella partita. Figuriamoci un derby. La stiamo preparando come una partita di cartello e vogliamo far valere anche le nostre qualità. Senti, lasciamo stare i precedenti del Martina. Veniamo ai tuoi precedenti. Quante volte hai incontrato il Foggia in carriera? Contarle sono tanti. L'ho incontrato parecchie volte perché comunque ho fatto per 12 anni sempre lo stesso campionato, sempre il girone C di una volta. L'ho incontrato parecchie volte e qualche volta ho fatto anche un gol. Ho perso una brutta semifinale anche contro il Foggia per andare in B. Però il passato è passato. Guardo al futuro, guardo alla partita di domenica dove spero che io e i miei compagni possiamo regalare una grossa soddisfazione ai difusi. Senti, questo Martina che è un po' croce e delizia per quanto riguarda il rendimento tra le gare interne e le gare esterne. Secondo te, finora in trasferta, che cos'è che è mancato a questo Martina? Sicuramente noi non ci siamo mai nascosti. Si è mancata un po' di personalità perché comunque abbiamo affrontato delle partite, abbiamo disputato delle partite non all'altezza nostra, della squadra e della rosa. Accantonato comunque pure anche i problemi iniziali che abbiamo avuto, societari e non societari, il Martina ora si è messo sull'acceleratore e sta cercando di recuperare i punti persi in passato. Già domenica, come ti dicevo prima, l'abbiamo dimostrato a Benevento. Abbiamo qualità per giocarci la partita contro chiunque e dobbiamo tirare di più in trasferta. In casa sappiamo che siamo un'ottima squadra, disputiamo sempre delle ottime partite, ma la differenza la dobbiamo fare fuori casa. Sicuramente uno può fare sempre di più. Dare vuoti ai giudizi personalmente può sembrare o superiore o troppo. Uno non è mai realista, io preferisco dare vuoti agli altri. Sicuramente in fase realizzativa posso dare di più. C'è anche da dire che comunque ne facciamo un modulo dove io non faccio prettamente l'attaccante, ma faccio l'esterno di centrocampo. E poi proprio in tutta la mia carriera mi viene data come attaccante, ma io non sono mai stato un attaccante puro, ma sempre un esterno massimo di 4-3 o l'esterno 4-4 di centrocampo. Però se posso trovare dove migliorare, c'è sicuramente fare qualche gol in più. Me lo metto come obiettivo io personale, è quello che posso fare di più nel girone di ritorno. Certo che in questo momento con l'organico a disposizione è anche la forma di Baclet è importante, anche a cominciare da questa delicata gara contro il Foggia. Sicuramente Alan per noi è un giocatore fondamentale, soprattutto per noi esterni e per l'altra punta che è Chris S, che stiamo giocando ultimamente. Ci crea spazio, ci crea comunque opportunità di gioco differente da quello di giocare a palla a terra. Con lui possiamo giocare anche palla lunga sul di lui. Ti può dare l'alternanza in una partita che in 90 minuti ti servono. Alan non lo scopriamo noi oggi, ma è un giocatore che se sta bene può fare categorie superiori. Sicuramente avendolo in campo domenica per noi è un grande punto di partenza. Senti, è chiaro che il nostro giudizio arriva un po' dall'esterno, però a giudicare l'umore che io ho percepito nel gruppo, al di là del risultato negativo di Benevento, che questa volta però ha dalla vostra parte molte scusanti ed attenuanti, per come è arrivato, l'abbiamo visto tutti. Ecco, al di là di questo, è la maniera migliore per approcciarsi a una gara che sarà sicuramente sul piano nervoso, una gara molto molto sentita da tutte e due le compagini. Sì, sicuramente affrontare le settimane con più entusiasmo, ma l'entusiasmo deriva sempre dalla consapevolezza di essere una squadra, è quello l'entusiasmo. Ti permette di preparare la partita con più tranquillità, perché come dicevi tu, già domenica quando rientri in campo, il fattore nervoso sarà a mille. Preparandola così con entusiasmo, con un po' più spenseratezza, ti permette di arrivare non molto carico alla partita, di pensarla, diciamo, prima di entrare in campo, che a livello nervoso ti può permettere di fare qualche errore. Invece preparandola così arrivi un po' più sereno. Sicuramente poi sappiamo tutti l'importanza di questa partita e chi ha più esperienza sa che queste partite possono cambiare un trend di una stagione.